Nel fine settimana sulla regione avremo ancora l'influenza della perturbazione che da giorni sta interessando l'Italia. Andrà però attenuandosi. Sabato avremo al mattino cielo coperto con deboli piogge residue, mentre dal pomeriggio le piogge cesseranno. Sarà possibile qualche schiarita, ma prevarranno in genere ancora le nubi. Temperature minime intorno ai 10 gradi in pianura, 14 sulla costa, massima intorno ai 17 gradi su pianura e costa. Per quanto riguarda la giornata di domenica, al mattino probabilmente cielo poco nuvoloso variabile sulle Alpi, dove avremo già delle schiarite, più nuvoloso invece su pianura e costa dove saranno possibili anche delle nebbie. In giornata tendenza al miglioramento per quanto riguarda pianura e costa con variabilità dal pomeriggio, mentre sui monti avremo cielo in genere variabile o poco nuvoloso dal pomeriggio sera. Temperature massime di domenica intorno ai 15 gradi su pianura e costa, minime di 8 in pianura, 12 gradi sulla costa. Con l'inizio della prossima settimana arriverà la bora e il freddo, questo porterà il bel tempo, l'aria secca e giornate però con temperature decisamente più basse della norma del periodo. Dall'Osservatorio Meteo dell'ARPA, Marcellino Salvador.